Salve a tutti, noi siamo Piddu e Nidio e questo è il 4+, un vlogghettino, non so se è veloce, questo lo stabilirà il Piddu perchè ha tanta voglia di parlare Però, cos'è quel simbolo strano lì? Ah, è il video Non l'avevo visto prima Avete visto il finale della serie di Zombicide? Ma come mai non siamo picchiando zombie? Beh, perchè ci siamo fermati un attimo a fare video, tra uno zombie e l'altro E poi arriviamo su Youtube E poi arriviamo su Youtube, è morta tutta la società, però non so Il finale della serie ci siamo impegnati tanto, ora ha tanti problemi, ha sicuramente un po' di errori Un drago bellissimo, il drago alla fine è bellissimo C'è qualche problema qua e là, ma considerato appunto che non è il nostro lavoro, noi insomma abbiamo un tempo limitato Non siamo attori professionisti Dopo il finale di stagione di Zombicide ci hanno contattato da Hollywood Sì, per fare il finale di stagione del prossimo Trono di Spade Esatto, l'avevano scritto, hanno detto guardate ce la fate, ora vi chiamiamo in dieci giorni, ce la dovete fare E chiaramente siamo andati, guardate, avevamo un budget molto ristretto Però ce l'abbiamo fatta, hanno anche detto, noi ci siamo sostituiti e sono diventato Jon Snow Perché non gli piaceva più l'attore Siamo qua adesso per parlare di una cosa importante È finita la serie di Zombicide, durata più di un anno Ci siamo impegnati tanto per portare Zombicide e comunque per la vostra gioia Continuerà ad uscire contenuti sul Zombicide Dobbiamo fare la recensione di No Rest for the Wicked Dobbiamo fare il gameplay ancora di Green Horde Dobbiamo fare un bel po' di contenuti ancora per Zombicide Tra un po' ci arriverà anche l'altra espansione di Green Horde Quindi insomma, Zombicide non mancherà e la poteranno Prima di quello futuristi Sì, penso però alla fine dell'anno Vabbè, però comunque prima o poi arriverà anche quello futuristi Quindi insomma, Zombicide continuerà ad esserci solo E per ora abbiamo stoppato questa serie E adesso vorremmo portare un'altra serie La questione è, quale serie portiamo? Siamo qui a chiederlo a voi, credo Esatto, noi siamo qua a chiederlo a voi Voi nel tempo ci avete dato un po' di suggerimenti Io però vorrei rimandare un attimo una clip Da quanto è che non si mandano le clip Vorrei mandare una clip E perciò ci piacerebbe fare proprio una campagna fatta per bene Quindi prima gireremo tutti gli episodi E poi magari li carichiamo via via Ci vorrà un bel po' di tempo Quindi... E beh sì, purtroppo... Allora, la questione è che noi abbiamo sempre iniziato Abbiamo più volte iniziato Tre volte Anche è finito una volta Tre volte ha finito... Ah no, ha finito la storia di Miles and Mystics Sì, l'erroggiando noi Ma registrando Abbiamo iniziato tre volte a registrare la serie di Miles and Mystics Sì Peraltro, l'ultima volta l'abbiamo registrata Noi abbiamo ancora i video pronti Teoricamente per portarvi I primi quattro episodi peraltro Non cinque No, quattro mi sembra Quattro episodi della serie ce l'avremmo anche Ah, siamo arrivato quando va Nestra a far la cacca Non puoi sapere niente Allora, noi l'abbiamo giocato forse anche troppo Miles and Mystics Cioè, ci piacerebbe giocare alle edizioni successive Perché l'edizione base Veramente l'abbiamo giocata tanto, 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 tanto Miles and Mystics sinceramente ci farebbe piacere portarlo È chiaro che anche per voi per seguirlo Vi fa più comodo fare il base E lo faremmo anche Magari saltiamo qualche missione nel mezzo E facciamo il riassunto Non lo so Ci farebbe piacere portare Miles and Mystics Però la questione è A voi interesserebbe? Perché è chiaro Al tempo vi interessava Qualcuno di voi ancora ci dice sempre Ma lo porterete Noi avremmo intenzione adesso E' finito Zombies Di impegnarci nel portare quello Consci del fatto che alcune puntate sono già fatte E quindi non è che possiamo Le prime quattro puntate non possiamo in alcun modo poi interagire con voi in modo diretto Però vi farebbe piacere Oppure preferireste un'altra serie Quindi facciamo un sondaggio diciamo Metterò il sondaggio Un'opzione un pochino faticosa Tanto faticosa Potrebbe essere anche Runabound in realtà Anche Runabound potrebbe essere un'altra opzione O se no stiamo anche pensando ad Assalto Imperiale Assalto Imperiale è un'altra opzione Siamo lì Entrambi sia Runabound che Assalto Imperiale Serebbero piuttosto pesanti Come più che altro girare e montare Come video Però se vi piacciono più di Miles and Mystics Possiamo pensarci Potrebbe essere Descent Potrebbe esserci Abbiamo A te ce l'ha preso Noi certo Abbiamo Descent Mi ricordavo neanche avessimo Descent Lì nella piva Siamo Descent Che più o meno a livello di regolo Cioè siamo Assalto Imperiale Solo che Due ambientazioni differenze Mac vs Minion Sì Mac vs Minion Però si va sugli spoiler Lasciamo a voi la decisione Noi lasciamo in descrizione un sondaggio Se trovo un sito dove fare un sondaggio Se no scrivetelo nei commenti E Non so se su YouTube direttamente Ma sicuramente mi affida un sito esterno Fateci sapere quale serie vi potrebbe interessare Noi appunto Miles and Mystics ci piacerebbe Però è un impegno Nel senso che Se iniziamo Miles and Mystics Considerate sempre un episodio al mese Se no impazziamo E Lo porteremo avanti per un anno Nel senso Un anno di quello Quindi Vi deve piacere Vogliamo sapere se vi interessa davvero Perché non vogliamo poi fare una cosa E ci riguarda tanto lavoro E magari poi interessa A poche persone Non ci aspettiamo la stessa accoglienza di Zombies Perché quello su YouTube È difficile da raggiungere Però ci piacerebbe andare in questa direzione Il problema di Miles and Mystics Volendo è che la storia è fatta Nel senso Se qualcuno di voi ha già giocato a Miles and Mystics La storia è quella Vedete le nostre tattiche Vedete le nostre tattiche Sicuramente vi divertite Perché Io impazzisco Anche solo nei primi Missione secondaria Google Missione secondaria Missione secondaria Abbiamo un solo turno rimasto Per vincere Missione secondaria Dobbiamo aiutare La poca Mixmage E va bene Noi siamo espertissimi Di Ormai il base Ormai I Miles and Mystics Base Ce ne lo siamo provati La prima missione Secondo me Io almeno Perché l'ho fatta L'ho fatta almeno 20 volte Mamma mia Quindi Non ci vale anche Di ripartire da capo I primi episodi Ce l'abbiamo E quelli teniamo Insomma È finita La batteria della telecamera E quindi Ciao a tutti Grazie di averci seguito Grazie Di averci commenti Se non vedete nient'altro E va bene Ciao a tutti